Il comune di Pescara ed in particolare l'assessorato alle politiche sociali e disabilità ha presentato il proprio cartellone degli eventi natalizi con l'obiettivo concreto di portare un sorriso a tutte quelle persone che vivono un momento delicato. Un aiuto fondamentale arriverà dalle associazioni che ogni giorno si adoperano per il sociale. Natale non ci dimentichiamo che serve proprio per ridare quel sorriso che in questo periodo l'abbiamo vista abbastanza dura. Quindi questi eventi natalizi servono per tutte quelle persone che si sentono sole, per gli anziani, per le persone giovani e per chi ha perso il lavoro e soprattutto per i bambini. Primo appuntamento già domani primo dicembre per chiudere il 6 gennaio con l'Epifania. Quest'anno ritornerà anche la Befana oltre a Babbo Natale, oltre a tutti i doni che verranno dati in ospedale. Quindi ci sarà un impegno veramente per tutti e un sorriso, vogliamo portare un sorriso a tutti quanti augurando sempre un auguro di Buon Natale e un anno sicuramente migliore di quello che abbiamo vissuto. Non c'è Natale senza sociale ovviamente anche con l'aiuto delle associazioni che lavorano sul territorio. Allora, questo sì, noi ci muoviamo sempre grazie all'impegno di tutte le associazioni. Senza di loro sicuramente non potevamo avere questi risultati. Quindi un ringraziamento va soprattutto a loro che stanno sempre ben attenti a regalare questi sorrisi.